Prosegue la diatriba politica riguardo il colore della zona abruzzese. Motivo del contendere il tanto agognato ritorno in zona gialla e in ballo ci sono le feste di Natale. Il DPCM impone che la zona arancione deve avere una durata minima di 14 giorni, che stando all'entrata ufficiale di domenica 13 nel livello intermedio, scadrebbero domenica 27 dicembre. Marsilio però non ci sta e fa pressing sul governo. Il presidente della giunta regionale punta ad allentare le misure restrittive una settimana prima, ovvero il 20 dicembre, oppure lunedì 21, che sarebbe la data di scadenza dei 14 giorni, contati però a partire dall'ordinanza regionale che in un primo momento ci aveva riportato in zona arancione. E probabilmente ne sapremo di più venerdì, con la solita cabina di regia ministeriale. La trattativa istituzionale comunque è ancora in corso. A dire il vero non è stata sospesa neanche durante il conflitto burocratico della settimana scorsa, su cui si era espresso anche il Tar dell'Aquila. Secondo alcune fonti, nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto l'accordo, che ci riporterebbe in zona gialla dal 23. Insomma, giusto in tempo per consentire gli spostamenti tra regioni, così da raggiungere i propri cari per Natale. A Natale però, così come a Capodanno, l'esecutivo nazionale vorrebbe imporre la zona rossa su tutta la penisola, vietando anche gli spostamenti tra comuni, ad eccezione di quelli con meno di 5.000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri. E a Roma, inoltre, a causa degli assembramenti di questi ultimi giorni, sollecitati in primis proprio dal governo in virtù del consumismo natalizio, tramite misure quali ad esempio il cashback, si sta valutando anche di anticipare la zona rossa generalizzata, che potrebbe scattare già dal 20 e perdurare fino al 6 di gennaio.